GF VIP, Mikolin Curvaia insulta Nikita Pelizzon? La parola stava per dire, Edoardo Tavassi la blocca. Durante l'ultima puntata del Grande Fratello VIP trasmessa in diretta su Canale 5. Sono andate in scena gli ennesimi attacchi a Nikita Pelizzon, che ormai dentro la casa si sente sempre più sola. Dopo il blocco pubblicitario, Mikolin Curvaia si è sfogata in giardino con Milena Miconi. Già Elededona, Orana Marzoli ed Edoardo Tavassi è, al posto della parola ragazza. È sembrato volesse dire un insulto ai danni di Nikita. Tavassi però l'ha subito ripresa e bloccata, e Mikol si è giustificata dicendo che voleva dire soltanto bambina. Questa pì, ma tranquilli, stava dicendo bambina, ha commentato un utente su Twitter. Ma avrebbe potuto dire la qualsiasi, volete fare il processo alle intenzioni, ha scritto qualcun altro. Foto, per gentile concessione dell'ufficio stampa and emulsion e Italy Music, Summer from Bensound. Come leggi anche, pensano che mette il veleno dentro il cibo, shock per le parole di Nikita, Milena sbalordita dopo averlo sentito. Come leggi anche, pensano che mette il senso. Grazie a tutti.